Lui? Come sto? Dai, ti prego, dimmi che so bene. Come fai il cineviattile? Che so bene? Ma è un giubbotto antiproiettili? Eh sì, che giubbotto antiproiettili? Che sei presensato? Ho preso un po' più corto, perché così mi siete dalla pancia, mi siete del culo, no? Ma che c'è fai, con sto giubbotto antiproiettili? Che fai? C'è usci Co1 Co1? Co1 E chi è? Ma... C'è lo conosco Ma no, non lo so, l'ho conosciuto da una critica, non sa così un palio, capito? È bello, è intelligente. Ma è un mio? Ma chi è? È Roberto Saviano! Corого Prod shaking Allora... tu... Lo ch�... questo ecco intorno... Te zo...